E' di 15.000 euro il contributo raccolto grazie alla collaborazione di diverse realtà che hanno consentito all'associazione Noi Donne soprattutto di acquistare e donare quattro poltrone per il reparto di oncologia dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. La stessa raccolta ha consentito di acquistare anche nuove sedute per rendere più confortevole la sala di attesa già arredato in passato dalla stessa associazione fondata da pazienti oncologiche. Presenti alla cerimonia di consegna le diverse realtà che hanno dato una mano come i carabinieri del Cobar della Legione Carabinieri che in uno splendido scenario natalizio hanno dato vita ad una serata di beneficenza. Generoso contributo è arrivato anche dal Centro per l'infanzia a crescere insieme di Mercato Sanseverino e dal gruppo Teatranti che guidato da Clotilde Grisolia ha portato avanti un progetto di teatro sociale e poi la Commissione Pari Opportunità e il forum di Mercato Sanseverino che si sono fatti portavoce del messaggio della prevenzione tra i giovani per avere raccolte fondi a favore dei pazienti oncologici. La pandemia ha fermato tante attività dell'associazione alle quali teniamo in modo particolare l'attività di volontariato che dà supporto alle pazienti e anche ai familiari che afferiscono numerosissimi ogni giorno al DH oncologico e la nostra attività di prevenzione nelle scuole. È chiaro che la pandemia ha bloccato tutto questo. La bontà dei nostri donatori invece non è stata fermata e con i 15 mila euro raccolti in questi due anni abbiamo potuto acquistare quattro poltrone per la chemio, poltrone comode perché i tempi per l'infusione di una chemioterapia sono anche lunghi, 4-5 ore ed è importante essere su una seduta comoda. E poi abbiamo riammodernato la sala d'attesa con sedute nuove, comode e anche abbiamo aumentato il numero perché come dicevo prima purtroppo l'aumento di quanti afferiscono al DH è cresciuto.